musica quindi per mantenerci aggiornati sui comunicati di emergenza della nostra zona dobbiamo assolutamente sintonizzare la radio a intervalli regolari cosa che non possiamo fare perché come abbiamo visto nei precedenti episodi e come possiamo vedere attualmente la radio è rotta perfetta tra l'altro l'abbiamo rotta poi i primi episodi cioè i primi episodi, i primi 1-2 giorni così non funziona, non sembra ricevere niente esplode proprio quindi hey e dopo tra l'altro abbiamo anche la mappa e cioè abbiamo la maschera antigas e il fucile rotti perfetto eravamo preoccupati per team ma è riuscito a tornare e ora è al sicuro con noi chi si chiama se il mondo va a fuoco ma i pompieri che emozione trovare la loro stazione ancora funzionante i vigili del fuoco hanno arredato a nuovo il posto e rinnovato le uniformi la maggior parte delle pareti sono state dipinte alla buona di rosso e nero e sugli elmetti ora ci sono dei cupi teschi non pensavamo che i nostri pompieri avessero quest'anima artistica come sono alternativi bene 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 accanto al garage abbiamo trovato dei vigili del fuoco che scacciavano dei giganteschi scarafaggi mutanti tutto normale con una pompa d'acqua meglio ancora ci siamo uniti al divertimento e siamo anche riusciti a riempire qualche bottiglia bene molto bene più tra di acqua e tanti saluti al fucile durante la spedizione è stato danneggiato molto molto male dovrebbe mangiare qualcosa è molto stanco tranquillo ora ti diamo da mangiare e poi anche riposarti non possiamo fare niente mentre il dolore sta così male male quale medikit quindi domagna perfetto non possiamo andare nessuna spedizione male questa mattina ci siamo studiati con qualcuno che picchiava alla porta come non ci fosse un domani in realtà potrebbe essere veramente così cosa facciamo apriamo speruma bisogna andare bene perché siamo messi male quindi cioè non abbiamo quasi niente da perdere il dolore sta morendo Timmy è qua da solo non abbiamo armi potremmo non aprire o potremmo aprire e sperare che ci sia qualcuno di gentile che ci sia qualcosa speriamo in bene io spero fine come fine ci sono i men in break ci hanno portati fuori di casa nel bel mezzo della notte ci hanno trasportato in fretta e furia a quello che gli agenti definivano un bunker presidenziale è stupendo certo i muri sono più o meno del solito grigio ma ora abbiamo ben due metri in più di spazio per camminare quando ci annoiamo a morte yeah proprio due metri sono quelli che ci fanno la differenza effettivamente quando non è niente da fare in un bunker sottotterraneo magari faccio due passi magari qualche metri in più non fa poi così schifo però inoltre il secchio in più e la scorta di giornali sono degni di considerazione tutto sommato sicuramente è un miglioramento e valsa la pena affrontare così tante rogne se in cambio potremmo vivere qui finalmente possiamo sederci rilassarci e far svuotare il secchio a qualcun altro tanto per cambiare sopra sovvissuti per 44 giorni poi c'è l'epilogo di tutti i giorni che sono passati non pensavo saremmo riusciti a vincere invece abbiamo vinto sopravvissuti forse giorni di sopravvivenza 44 acqua consumata 11 zuppa consumata 6 numero di volte in cui hai difeso il tuo rifugio 0 decisioni si 6 decisioni no 1 sfedizione con successo 8 oggetti recuperati nella sua sfedizione 16 io direi che ci è andata molto molto bene deve andare decisamente peggio siamo riusciti a vincere quindi e abbiamo soltanto avuto una vittima diciamo 2 perché non l'abbiamo presa però abbiamo avuto una vittima che è il povero Ted poveretto ci mancherà a tutti Dolorsa è malata ma quindi laggiù conta come se l'avessero curata e Timmy è Timmy lui sta bene io vi ringrazio per aver seguito il gameplay che non pensavo sarebbe finito tutti in fretta infatti avrei risolto 5 minuti in più nella precedente puntata io vi ringrazio da Gilles è tutto ciao a tutti bella